La nostra emittente, Tele Lombardia, offre un servizio pubblico a tutti voi telespettatori. Questo perché dopo aver fatto una serie di puntate in materia giudiziaria, abbiamo ricevuto una serie di domande. Bene, questa sera siamo pronti a rispondere a tutte queste domande, o almeno a una buona parte di tutte queste domande, con l'avvocato Francesco D'Andria, che è una mail davvero sofferta. Ci scrive Michele da Milano. Nella fase di separazione, una separazione particolarmente conflittuale, sono stato accusato da mia moglie di aver abusato dei miei figli. Eppure sono stato rinviato a giudizio. Ma com'è possibile che possa avvenire tutto questo? Mi può dare un consiglio utile? Da cui è de... Convocato, a questo punto intervengo io se mi consente. Mi scusi Gergo, ma come si fa a smontare un'accusa di questo tipo? Ecco. Le mail che ci sono arrivate, ci scrive Luigi da Monza e ci dice Sono stato accusato dalla mia ex di stalking. Lei mi ha lasciato attraverso un sms e ha abbandonato la casa dove convivevamo. Io ho cercato soltanto di riconquistarla andando sul posto di lavoro, mandando le fiori, scrivendo mail e telefonando. Non sono mai stato violento, ma volevo solo delle risposte. È possibile che un riavvicinamento o un corteggiamento può essere considerato stalking? Grazie per l'attenzione. Questo è quello che ci scrive Luigi. Dice, sul posto di lavoro ho tentato di dare un bacio ad una donna. Lei mi ha rifiutato e io mi sono ritirato in buon ordine. Dopo giorni mi ha denunciato di violenza sessuale. Sono davvero umiliato e deluso. Adesso sto affrontando un processo. Secondo lei, Andy, che ci dice, ho ricevuto un atto giudiziario in cui mi chiedono di essere interrogato. Io non ho nessun problema, voglio farmi interrogare dal magistrato. Lei invece che cosa ne pensa? Caro avvocato D'Andrea, la vedo spesso e mi piace come argomento alle tematiche giuridiche. Detto questo, tra pochi giorni sarò a processo per un'accusa di violenza sessuale mai commessa. Sono pronta a testimoniare insieme a mia sorella che quella sera io non ho mai usato violenza su questa donna. Crede che sia sulla strada giusta? Tantissime domande che ci hanno posto i nostri telespettatori, ma non riusciamo a rispondere a tutti. A questo punto mi viene da dire, visto che ci sono tantissimi casi incredibili in queste aule di giustizia, come facciamo ad avere ancora fiducia a noi nella giustizia? Grazie per aver risposto a tutte queste domande. Ricordiamo che lei e lei possono andare su avvocatofrancescodandrea.it. Io ho la casa e vi auguro una buona serata.